I miei fan L'ho riscattato e giro la ruota Grande grafica Allora domani la giriamo Alle vendi tutto tranquillo Esatto Arrivo alle 4 E un per 2 E le da madonna Esatto Hai visto che roba I fan erano italiani Che c'ho dei fan erano italiani Non esistono Yo E Pedro Pedro Non penso che c'ho fan erano italiani Squad bonus Che cazzo è sta carta Pedro 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 Ma sono il turno 5 Il turno 6 si blocca Sennò è impossibile Allora dentro ci abbiamo Destroi Il magneto Posso mettere più sul lock joe Almeno ci abbiamo un 50% Maracaibo A tu sin mongolo Ah sei mongolo Vabbè mi fa piacere Allora ciao mongolo Come va Non pensavo ci ho fan mongoli Oltre che italiani Poi ci sta un macedone là E che ne penso Che devo pensare Niente Pure i ginesi Un porco di javolo Che cazzo è qua Un po' 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 Noi possiamo girare a tirare questo guardo Spinauta, è buono Oh, can you understand me? To Cindy La carta nera mi serve Il magneto Ma in realtà no, perché Qua ho perso Cioè qua si googla Qua tira la Madonna E a sinistra perdo E a sinistra per la Madonna E a sinistra per la Madonna Eh, posso provare a far così ma è difficile vincere E' partito bene quindi niente Sono anni che vivi all'incontrario Ma la salute? Ma un baglio del cazzo tu e non te li fai mai? Che significa la salute, scusa No, ti vedo così, te lo dico Come me vedi? Cioè non ho capito, scusa Cioè ma raga ma quando c'è Ma c'è stato di guardia quando fate le domande? Io non lo so Ormai indico più niente Oh questo mi piace Allora ci abbiamo ciubili, ci abbiamo ciubili Poi ci abbiamo Ela pure Che non è male Ah ma lascia tu verde ragazzi Che meno meno che aggazzo Cioè Porca droga Se viene distrutta È un delirio Meglio fa così Vabbè Ci ho un bel lufo Questo qua è un quattro di merda Non me ne frega un cazzo Vabbè Vabbè ho capito Non trovo L'ho lasciatolo verde Un figlio di puttana L'ho lasciatolo verde L'ho lasciatolo verde Ogni volta che vedo Aliot devo pensare che c'è stato tipo una... Ogni volta che vedo Aliot devo pensare che c'è stato tipo sempre... Cioè, no, ogni volta che vedo il destroy devo pensare che c'è stato Aliot sotto, quindi... No, no, lasciate perdere, ragazzi. No, 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 lasciate perdere in chat, tranquilli. Lasciate perdere. Lasciate perdere. È un ignorante, fatelo mangiare... Fagliate mangiare l'upper, fategli mangiare. Cazzo me ne frega a me. Allora, qua. Comunque ciao Tony Doc, come stai? E vanno al centro, che cazzo. Così almeno gli dai pure le carte, porca puttana. Qua snappo. Ecco, stamane non posso non snappà. Porca troia, gli ha dato pure un gambafore. Ma che d'è sta musica de' merda, porco diavolo? Come pare una musica de... Dei vecchi, porca troia. Niente, mi conviene acconciate. Poi uno mi deve dire come fa a arrancago sto cazzo di deco. Allora, dimmi, qual è la tua teoria? Va bene, dato che vuoi giocare, giochiamo. Dimmi, qual è la tua teoria... La tua teoria che un corpo che sta sveglio la notte e... Che sta sveglio la notte e dorme la mattina barra pomeriggio e si sveglia verso le 2, le 3 del pomeriggio. La teoria, la tua teoria che... Insomma, è una vita che porta all'esaurimento, come hai detto tu. Porta all'obesità, porta al mangiare. Cioè, qual è il nesso? Ciao, Tony! Tony Curto, ciao bello, tu mei sere sub, grazie. Hai studiato? Per dire una cosa del genere. Perché tu dici che la mia rovina... È il fatto che io dormo... Se vuoi ti riprendo quello che hai scritto, le puttanate di merda che hai scritto, ti leggo. Dai, mi sembri veramente speciale quando scrivi queste cose. Sto dicendo il tuo stile. Puntini, puntini. La notte non c'entra un cazzo. Io lavoro di notte, puntini, puntini, puntini. Vivi male tu in generale. Come fai a sapere che io vivo male, scusami? Come fai a dire che il mio malessere è dovuto al fatto che io vivo la notte e dormo di giorno, scusami? Poi, tu hai detto che sei calmo? Non mi pare proprio. Non ti ho mai visto a pensare al... Al fisco... Al fisico, volevi dire. Manco l'italiano si scrive. Ti ammazzi di cibo. Mi ammazzo di cibo. Mentre non sei proprio un cazzo di quello che mangio io a colazione, pranzo, cena, prima di andare a dormire. Stai sempre esaurito. Quindi mi hai dato pure dell'ausaurito. Mi hai dato anche dell'esaurito. E io ti posso dire che tu sei un grandissimo... Calma. Devo stare calmo. Devo calmarmi. Devo calmarmi. E tu stai facendo apposta per farmi incazzare. E io non ti voglio dare questa soddisfazione. Vabbè, dai, te commenti da solo, dai. Torna, fate le pugnette che ti piacciono dando, dai. DOOM RULES ALL no 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 è impossibile io sto a perdere cioè io non capisco qual è il nesso tra vincere qui e cioè la discord che è il top deck tier assurdo più assoluto io secondo me no 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 cioè e tre di mana me ne servirebbero un po di più grande paolo di giornalista ciao bello un bacione il primo ammette dukart e porca di quella droiona vacca piccato perché non voglio far pescare lui le carte dio cristo la merda questo che cazzo è no no via via questo non serve un cazzo turno dopo speriamo di pescare in finauta dai in finauta almeno metto un 20 porca troia per cazzo ok niente 20 scartate scartate ciò un po da merda ciò le carte scartate va beh questo snappa pure soluzione per vince ok 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 Grazie Paolo De Giornalista Ciao Bello grazie mille Grazie un bacione Minchia sta partita è bellissima È stata veramente fantastica Molto emozionante wow Ma si ma lasciate perdere Sì ma non ti ho detto Ti ho detto commenta il fatto Cioè argomenta Cos'è secondo te che porta Ad avere una brutta Cioè qual è il problema di vivere la notte Qual è il problema Argomenta Dato che dici che la mia vita Cioè fa schifo perché Secondo te Cioè no fa schifo Dici che non è salutare il fatto che io dormo Dormo de giorno E vivo la notte Allora dimmi qual è Il motivo Cioè io voglio solo capire La tua argomenta La tua argomentazione Grazie 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 mille Parodi giornalista Un bacio enorme Grazie mille Buongiorno abisso Esatto L'unico problema della notte È che dura troppo poco Nooo Ok Oddio Oddio Guarda qua c'è un alto rischio No Corbus No No Cazzo Cazzo Grazie Grazie Kiruccia Se non ci fosse idea Ma io lascio così Tutto invariato Vediamo Grazie mille Niente Ma sto cazzo La tutti dicono Che è il più forte Il più forte Del mondo Ma che cazzo Ma come fanno A dire che è il più forte Allora Adesso mi concentro Partita per partita Ma tanto È inutile Che dicono Che è il più forte È il più scarso Secondo me Non è il più forte Un Schloss Cazzo Allora Fammi dire Fammi dire Allora qua leggiamo le puttanate Del mattino Aspettate un attimo Metto un po' di canzoncine Aspetta un attimo Leggo un po' la canzoncina Allora buongiorno a tutti Benvenuti in questa nuova puntata Di drama case Delle 4 e 20 del mattino Andiamo a leggere questi Grandissimi Allora qui ci sono delle seghe Ci sono delle mezze seghe Qui nella chat Quindi andiamo subito a leggere questi Questi messaggi che oggi abbiamo ricevuto Va bene andiamo a vedere Allora Andiamo a leggere HS sempre a mangiare HS sempre a magnaie Sembra a magnaie Vabbè Sembra a mangiare Ok va bene Sto sempre a mangiare Grazie al cazzo Non mi posso mangiare uno yogurt Uno yogurt Che tra l'altro E anche Quelli Zero grassi Fragola Yogurt Questo qui Che me l'ha consigliato Anche il dietologo Perché si sto a dieta Sto a dieta Come pensi tu Ok Alto proteico Alto proteico Yogurt E fragola Zero per cento De grassi Ok Sono anni che vive All'incontrario Ma la salute Non capisco No ti vedo No ti vedo così Te lo dico Non ti ho mai visto Pensare Al fisco Al fisico Vorrei andiente Ok Al fisico Mentre non sai che Insomma Mi sono fatto un trappianto E col trappianto Se ti informi Sai benissimo Che dovresti già saperlo Dato che sei un medico Assoluto Che non si possono fare Non si può fare Attività fisica Dopo che ti sei fatto Un trappianto Per tot tempo E sto facendo Delle cure Che non posso sudare Sulla testa Detto questo Ti ammazzi di cibo La mia dieta È una dieta Mediterranea Normale Mi ammazzo di cibo Ci sta che ogni tanto Faccio lo sgarro Ma anche lo sgarro Fa parte della dieta Te lo posso anche assicurare Perché nella dieta In una dieta sana Cioè ci sono anche i grassi Se non lo sai Ci sono anche i grassi Ma questo in teoria Lo dovresti già sapere Ma va bene così È fatta Una dieta equilibrata È fatta di Fibre Grassi E carboidrati Dovrebbe essere tutto E vitamine Tutto un equilibrio Cioè Ok Quindi Dovresti saperlo A meno che tu Non vai avanti a zucchine Dalla mattina alla sera Però va bene Io sono calmo Mattè Beh Non mi sembra Che sei calmo Perché Mi hai detto Che sto sempre esaurito Che sono esaurito Che mi ammazzo di cibo Come se Tu sai Che insomma Queste cose qui Avete mai pensato Che la rovina Siete voi follower Leccaculo Quindi io quando ti ho chiesto Ma Senti Dimmi perché Grazie Paolo Dei giornalista Grazie mille Della sub Io ho detto Dimmi perché Allora secondo te Io faccio Perché secondo te È una vita Diciamo così Vivere All'incontrario Ma la salute Ma non ho capito Vabbè Poi Sto dicendo Il tuo stile Ok Il mio stile La notte Non c'entra un cazzo Io lavoro di notte Vivi male tu In generale Come se tu Sapessi Cosa faccio io Nella mia vita E come vivo io La mia vita privata Ok A parte adesso Che è un periodo Un po' particolare Della mia vita Dove Sono in maratona Ma Ripeto In maratona Si presuppone Che sto qui Tutti i giorni Quindi Vabbè A parte quello Ma non è per un periodo Diciamo Infinito Ok È un periodo Limitato Di Due mesi Tre mesi Che ho deciso Di fare io Ho preso questa decisione Di farlo Quindi non vedo Dove ci sia Niente di male Insomma C'è sta Chi prende parte Va fuori A fare gli stage Fuori Va fuori A lavorare C'è chi Lavora Dentro Gli alberghi Prende parte Fa i camerieri Cuochi Prende parte Va Fa una stagione E poi dopo Torna a casa E si riposa Un po' Oppure Lavori A casa E poi dopo Riparte Per un'altra stagione Però vabbè Insomma Anche quelli lì Vivono male Vabbè Poi pensalo Come cazzo Te pare Poi stai calmo È un'opinione Non ti ho mai visto Pensare al tuo bene Ok Vedo una persona Con tanti demoni E la rovina Sono tutti Questi bimbi Lecca culo Opinione Ora vado Ciao ciao Quindi Questi bimbi Lecca culo Quindi sei anche te Un bimbo Lecca culo Cioè Tra tutti Te ci metti pure te Ah no Perché tu sei diverso Tu insulti Sei solo insultare Usi le parole Solo per insultare Per Complimenti Tutti contro Chissà perché Poveri E perché Perché ci sta Modo in modo Di dire le cose E soprattutto Se non sai Se non conosci La mia vita privata Te dovresti Sì tazzito Prima cosa Ok Uno contro tutti Che può fare Meglio Nel branco Vero Passo e chiudo No Non è passo e chiudo A prescindere se la mia vita È sbagliata o meno Però ripeto Tu non la conosci Tu non sai Tu non stai qui Nel mio padre Mi può dire una cosa del genere Che ne so La mia ragazza Futura Potrebbe dirmi Una cosa del genere Che cazzo Qualcuno 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 Che mi sta vicino Può dirmi Ok Fai una vita De merda Ma non tu Tu chi sei Chi sei Tu non sei nessuno Per me Chi te conosce Ti ripeto Ci fai solo La figura Da ignorante Quando fai Ste cose Ora vado A dormire Ma non posso Stare in chat Solo contro Tutti Vivo Vivo male Vivi male Te in generale Oltre al trabianto Che cazzo Hai fatto Vedo una persona Distrutta E lascia perdere I soldi Puntini 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 Vado a letto Non posso Stare ore Qui Dal telefono Vabbè Oltre al trabianto Che cazzo Ho fatto Beh Non ho fatto Assolutamente Un cazzo L'anno scorso Mi sono ammalato Ho preso Il covid L'anno scorso Circa un anno e mezzo fa Ho preso il covid E poi dopo Un anno Un anno fa Esattamente un anno fa Mi sono ammalato Ho avuto Il long covid Secondo i medici Era il long covid E ho avuto Broncopolmonite A gogo Non riuscivo nemmeno più A parlare Avevo sempre tosse Mal di gola Raffreddore Mi sono anche curato Sotto quel punto di vista Ho preso Di farmaci E delle robe E sono stato Sul letto Per un mese e mezzo E sono andato D'antiotologo Mi ha detto Che dovevo dimagrire Sono sceso 20 chili Nel giro di un anno Sono sceso No beh 20 no Però una decina di chili 10-15 chili Un anno fa E avevo iniziato A fare palestra E tutto Poi dopo Ho deciso Di fare il trapianto E col trapianto Non posso più fare Diciamo Attività fisica Però ripeto Non è un problema Perché Cosa ho fatto io Nella mia vita Nulla Sto facendo una maratona Adesso Sto portando content Sto cercando Di fare content Adesso Se tu passi Alle 4 e mezzo Del mattino Ti ripeto Sono le 4 e mezzo Del mattino È normale Che Non sto bello Pimpante Come Le 4 Le 5 Le 6 Di pomeriggio È normale Credo Però va bene Tu continua A A vederla Come cazzo Ti pare Poi ripeto Sono il primo A dire che Queste maratone Sono distruttive Perché comunque Diciamo La gente Entra Scrive i messaggi Vede Valuta Sparla E poi va via Però ti ripeto Ti invito anche A passare Di pomeriggio Ma Tu dormi Quindi Io non vedo Una persona Che me conosce Assolutamente No Assolutamente No Non hai fatto Mai la sub Non hai mai visto Non so Chi è questo Fammi vedere Ho capito Se sei uno Che vive Deste cose Beh sicuramente Ti starai masturbando Adesso In questo momento Non è vero Rampos Flampor Non ti starai Masturbando Vero Ah A voglia Sì Ti starai masturbando Vero C'hai il cazzo in mano Vero Stai per venire Stai per venire Vero Lo so Perché ti sto calcolando Ma pensa Alla cacata Che ho fatto Cinque minuti fa Dieci minuti fa Puzzava in un moto Deove marce Immagina Dentro la tua bocca Ti piace Vero Ma vaffanculo vai Ma vai a cagare Addio Aspetta 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 Do sta Questo qua Via Se mette Non lo banno Però come se mette In modalità Segnalata Quella Non Utenti Sospetti Monitola Via Così almeno Quando vieni Scrivi le puttanate So che già Si è in testa De cazzo Ok Perfetto Non te banno Ma Almeno Utente sospetto Almeno so che So che è un rincoglionito Via Allora Torniamo a noi Esatto Esatto Non li banno Ma se c'hanno il video Si scrive puttanate Almeno lo vedo Oh e quante cose ho fatto Quest'anno Ah A me la ride Raga Non è vero Ramblos Te la dedico Non è vero Minions Minions To me Minions Pure Ela Doppio Ela Non è vero E poi Te magni La Merda Quella Di Serena Orgadio E che E che Tamagna La Merda L'importante E che Non è vero No Grazie a tutti. 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 a tutti. ha capito? che fa qua? grazie a tutti. Lui potrebbe far Destroyer centro Però come vince su altri campi No no non vince Impossibile non può vincere E che bella snapperata da parte di Matteo Su quel processo X Un bel predict Che fa Abbi alcuno Matteo No no non fa niente Abbi al culo E sono 8 8 8 8 l'ottomatica Ma con te caputana O mi porti fortuna tu Non lo so E' l'aria della top Che sta andrà dentro Il sangue La pelle Ma fino adesso io ho una sfiga della madonna Ma proprio così Toccate in braccio Senti la differenza No l'ubraccio non l'ucazzo No l'ubraccio no 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 Mi armi Mi armi Mi armi Mi armi Si si lo sento lo sento lo sento A voi se lo sento Occhio però ci sta main escape La zona pa eh Ok tanto Tranquillo tranquillo Tanto è la Che gli eserroi sul rec Tra lui Niente No Ah beh dai Guarda Bello bello Ma porca troia Vabbè dai Eh ma lui è forge E' tipo un destroy Destroy Sì Probabilmente sì Mette Deadpool qua E perdo No Vabbè pure questa non è simpatica Non bello Non bello Eccoci qua Non conviene farlo Eh tanto bro Eh oddio E' una moglie E' una moglie E' una moglie Progetto destroy E' impossibile Si può giocare ammazza un boom Meno randomico Destroy e forte Anche Thanos Stanno su Gioca mai Sì sì No l'ho giocato parecchio ieri Però No no Non è che mi annoia No no Ma va Ma io non mi annoia mai E' solo che Sono troppo Ma ora mi sono fissato Con questo cazzo De Ecco vedi Lo potevo tira Esatto Questo cazzo De Passo passo No no Si si sta un attimo a pensare Eh però Non lo faccio corvo Dipende che prendo Vediamo che pescamo Una su 8 Ok Questo è molto buono Oh 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 la fascia La peppa Eh però devo pensare Perché Mi sa che è meglio Fa prima play Una su 7 Tanto dopo E Te li riprendi Di prove male Che pesca è la Te li provi male Esatto Sì Anch'io farei blade So sincero Ci ha messo Green Goblin Dio Ok 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 Ci ho pure Che questo potrebbe Nascondere Mezzo Galactus Dietro al cappello Però Galactus Dice che c'ha Puzza Puzzanando Puzzanando De Galactus Puzzanando De Galactus E se lo fa Lo fa adesso E quello è il problema C'è pure Prio Giubilicentro Eh non si può Fa Perché non spawna Vabbè vediamo che cazzo C'ha allora Ah non lo so Non me lo chiede Ok Gigando Tocca Gigando a sinistra Ci sta Ok c'è Galactus Vabbè vediamo che c'è sotto La coperta O qual è il problema A te Che fa Alliot Che può sempre Perse Lui qua L'ha snappato Perché c'ha Nikulus Eh no C'ha Alliot Quindi vuol dire Che qualunque Carta giochi coperta Te la brucia Ma non è detto Che ce l'ha Cioè Ce l'ha sicuro Dici Ah Gioco per scienze Eh però Tanto è persa Comunque Stessa roba Vabbè te l'ho voluta Prova via Che merda Sì sì Comunque qua Pensavi che stava a bleffà Sì Cazzo Ma te? Sì 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 A ver Mi troppo Io non ti sento più Io uso un microfono Aspetta Non ti sento più Che pavo Mi senti? Sì adesso sì Adesso sì Ok questo è un move Questo qua se vince Ok Ma che sfiga Vabbè Non mi è andata poi così male Dai No 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 Ma mi sentivi prima? Eh? Prima mi hai sentito Quando quello ti dicevo? Sì 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 Ah ok Ciao buonanotte Cesa Buonanotte Buonanotte E si fa buona Sì Forse anche fuori da cane Perché Rischi di glugate O rischi che te tria su Ela e te tria su Vola roba Bravo Anche sinistra Con destino Un pochetto Ha snappato lui? Ah io Ok Ma che c'ha? Era un fist con il venom? Che c'ha? Penso che sia un venice Però che ha briccato Parecchio Ok E' più che c'entrava fatta Qua sempre Dai dai Piccole motte Piccola motte Per il nostro amico russo E invece Amico russo Chiama Oh 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 Eh ma può chiamare tutto quello qui Ah la finisce C'era infatti Che fa la finisce? Eh si trasforma con la carta Però certo Aveva preso Ah non ho visto Non è proprio Ah ah La combo Quanto diventa quello? E' sempre uguale Rimane Qui ci vuole Ela Quella dottoressa lì Eccola Eccola qua Allora Ecco Che abbiamo scartato Secondo me Sinistra Anche io Frey sinistro Sì Non so Lui qua Che si può inventare Forse spostare un visto E fa Arminzola O farminzola Super Ma al massimo Non lo vedo bene Ragazzo No Nemmeno io Secondo me Deve concedere Ragazzo Si è fidato De se stesso E come fa a vincere qua? E non boh Ehm Non credo che Vinga No no Non boh Non boh Non boh Se sei lì Come cazzo fa? E bravo E bravo il maestro Vinto E bravo il maestro Il problema qua Non è Non è facile qua Comunque Se ci pensi a Dimmi Non lo so Non riesco a vincere Non riesco a vincere Cioè non è che dici Faccio Per esempio Già a quest'ora Dove sta già All'80 90 Capito? Mh Ma quante ore gioca Tipo Gugli Eh Boh Che so Non lo so Però Dopo player Giocano parecchio Gocano parecchio 7-8 ore No 7-8 Forse anche di più Forse anche di più Porca troia Beh Dragon provi i mazzi Che fai qualcosa Ah Mirror Ok È solo che lui è andato un po' meglio Però Qual è il discorso? Oh Il discorso è che È che noi potremmo sfruttare anche il centro Perché il centro ci sta dimensione scura Che non ti fa flippare le carte Quindi potremmo mettere anche Che ne so Corvus Glid al centro Tanto se frocca a fine partita Ma prima se frocca a questo Poi È là? Sì sì È là ovviamente la metti sempre lì sotto Se 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 girano in fila Moda capi Questo quanto gas C'è in mano Eccoci qua Anche lui ha fatto Corvo lì sotto Sicuro Beh Potremmo fare tipo Dracula Dracula Sì Non è Oddio Oppure Oppure meglio No però aspetta Ci abbiamo Infinaute Giganto sotto Anche Anche Giubili Non è male Esatto Per quello Ti dicevo Anche Giubili Da una parte Non è male No Anche perché dopo Se becca Lady Sif Facciamo pure Edette In mano Quindi Giubili Sinistra Ci sta Dai Ci ha fatto Dragola Che schifo Oddio Giganto Giganto Non è male Oh cazzo Non posso E lì No Vabbè Posso far Questo E Sì Può fare Hangblade A destra Ando scatta Giganto Se esce Le di Sif Cane Non ci dispiace E Eccola Buono Sai che qui Non stiamo Massimale Per un cazzo No Perché allora Se fai La sul cane Esce fuori Invinauta Però E' la centro Pure Dragola Oh Dragola Esatto Invece è la centro Se si procca Prima Corpus Glade Quindi taglia pure Magneto e Scarra Giocava una marea Di roba Esatto Vediamo se Come dici tu Penso De si Ma Fatto Magneto C'è Glugato Questa è una mossa Un po' Da testa Da testa Di cazzo Da parte Della E però Mò Gli mettiamo dentro Pure Belli puntarelli Belli puntarelli No niente Che cazzo Ma da maestro Taglia 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 Ma che cazzo C'ha questo Taglia Lo prosciutto Ma come pensavo Di vincere Non ho capito Era temerario Era temerario Ma è un bot Barrier Se chiama Boh Però i botti Li vedi Matteo Sai perché Li vedi Fanno giocate Un po' Ambigue Dei soliti Giocano sempre Tipo Che ne so Grazie Chi era Vabbè Ma Ma In realtà Se prende Tipo Verso Il 2000 Ma Se scuole Anche all'inizio Mi pare Una pull 3 No Non lo so Pull 3 Mi pare Siamo qui Non ho fatto La collezione Però si Dovrebbe essere Pull 3 Pull 3 L'ora Lo puoi prendere Pure con i gettoni Ma si Ma se uno gioca Secondo me Riesce a Fare A essere Free to play Comunque Dicevi Ah dei bot I bot Ti riconosci Perché Giocano sempre Nightcrawler Che è quello Lì L'1 2 Che si sposta Tante volte Giocano Carnage Base Senza skin Ci hanno Tipo tutti Avatar Pixel Particolari E poi Li vede Sai perché Il bot Lo vede Una cosa Che se Lui Tu anche C'hai La in mano Sta a turno 5 Per dire Che Sta in vantaggio Su due Gambi Anche Dei pochi punti Il bot Ti stampa Sempre Infatti Tanta gente Quando va Fa la run Per In finita Appena Esce la season Farma Forte Su quello Ah qui Ha scattato E Questo È Questa Qua Snappo A meno che Non si inventa Qualcosa Che famo Però Questo è Bello 50 e 50 Questo Questo è 50 e 50 Tu che ti senti Blackhead Si scarta Da sola Quindi è buona Per Però Dentro Abbiamo Jubilee Che può Mette dentro Scar Che può Mette dentro Sì Il sacco De roba Quindi Secondo me È meglio Faccio Ok Il magneto No Ok 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 Oh È entrato Quel signore Lì Ah per forza È la matematica Allora Beh ci stava anche Det Scar Sì Che hai scartato Tu Giganto Io Sì Giganto Sì Eccolo Allora Se tu metti Alla sinistra Sicuramente Te lo spona Su un gamble Scendolo a destra E poi Però Cambia con Sì La roba Buona Sì Con roba Buona Però In realtà A me Mi serve È la Da un'altra parte Eh Oh Allora Che ne so Tipo Magari fai La centro A destra E speri Che la carta Che ti espona Non va a sinistra O se vuoi Stare più sicuro Vai guai La sinistra È la destra Secondo me Ah Mi sa Questo era un Ragazzo Speciale Robotico Robotico Mi sa Ragazzo Speciale Questo era un ragazzo Robotico Mi sa Cioè Gab Cray Vabbè ma dove lo poteva fare Quello in realtà Da nessuna parte Questo no doveva solo Leftà partita e basta Per scarto Ela Te ne vai Te ne vai A 67 Lui se Ci ha creduto È un ragazzo Che ci crede Ci ha provato Ci ha provato Ci ha provato Ci ha provato Ma tu giochi mai Lela? Sì Sì Gioco Ti piace? Per me No Sinceramente no Perché non ti piace? Perché è troppo randomico Quindi per te Non ti piace insomma No Mazzo che va tanto a culo Però riconosco Che mazzo forte Come adesso Come mai Gioca sempre In torneo? Cioè non ci sta un torneo Dove non lo gioca Perché comunque Mazzo che C'è tanto win rate E se dici bene Ci vinci Beh Google gioca Anche tanto Thanos A torneo Un'altra volta Un'altra volta MyScape Non è bello che niente No Ma almeno Stamente se mi fa Corbus Mi fa un paure Non mi scarta Ela Eh sì Niente Niente Che manco L'ha chiamato Oh 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 Che manco L'ha chiamato Madonna Qua si snappa Subito qua Eh occhio Oh Stiamo a escape Eh però Noi ce l'abbiamo Un turno prima Con Corbus Lo possiamo dire Questo è vero Eh lo posso dire adesso Io faccio un bucio De culo Che non venisse più Oddio No no Ok Buono Vabbè Forse hai capito Questo che ho fatto Questo è la vocalistia Da sedici Vabbè ce lo da però Eh sì Sì Ah ok Sei ritirato Ha capito Ma che ha fatto È matto Ha capito Ha capito Ha capito Ha capito Ha scartato Apocalypse Poche dopo ce lo ridava Che cazzo era Stato giocato Baffato Per di più Quattro volte in più Madre santa Ecco quando Mi capitano Sti bot qua Ok Però prima Mamma mia Una serie di sconfitte Terribili proprio Terrificanti Poi a quest'ora Dovrebbero essere Tutti i mezzi bot Invece no E qui noi ci tocciamo Eh Eh sì Qua passo Ambe E poi facciamo Se non bescamo E la qui un bello Snappino Sotto 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 li vendi Sì Una su otto Dai Che cazzo Ok Molto bene Ma in realtà Non lo so Ti senti di velario? Una su sette Dai Che sfiga è E vai Dai E metticelo Il cane Ficcalo là Vai Via Cazzo è Gioca bene Rebilli come mazzo Ok Eh quando gioca il martello Gli raddoppi la forza No Vabbè dopo giochiamo l'infinauta Però Sì Sì Passa un turno Per No Durante questo turno Solo Figa Ah dopo giochiamo per 5 Sempre Però porca puttana L'unica giocata che puniva Assurdo È una su sette Eh Se snappa Fuggo Beh in realtà Non è male Che schifo Esce È per forza Via In realtà questa In tutte Magari Che potresti fa dopo Se tutto va bene Fai ela al centro sul cane Magari scappa una carta che ti scatta E la ripescavo Poi vediamo come va Una bella roccia Ah che bello Una bella roccia Aspetta però Perché Noi che abbiamo scartato Possiamo google Tipo a destra Eh però Stiamo sempre Stiamo Bleccato Bleccato Però anche Fai ma niente Stai sempre sotto Perché ci spostiamo Beh dare billy Lui fa 17 Lo fa 12 Questo è da scappar via Se vuoi provare Magari vi ho detto È la È la al centro Oddio ci puoi provare È la centro Centro dici Ma qua può venire fuori Giubilì Però Sì Ovviamente ci viene fuori La merda Quindi Può venire fuori Giubilì Può venire fuori Corpus Glaive Qua c'è Carta Perché È difficile È difficile Ok Buono Occhio a te Eh mamma mia Però Quando il culo viene Vai 3 su 3 3 su 3 Ai e là È calcolato Tutto calcolato Le si fa Facili death Però Ti tocchi tutto Madonna Ti stai toccato Tutto quando Ti stai toccato Madonna mia Madonna veramente Che culo Porca ma Te l'ho detto Che si vinceva Era tutto calcolato Tutto quando Io infatti Te l'ho detto Fino a una cerdia E poi ho detto Matteo Devi mettersi Il suo pesce Ci devi metter In questo In questo play Te l'ho detto Te l'ho detto Qui Michele dove a scola Adesso No Un po' presto Chi è mica Adio Ecco a passo Eci Che in realtà Scarta pure Giubilino Non è male Però Questa si scarta Da sola Sì ma Il buio Ha detto Che non è male Se passi Tipo tutti i turni Sì Sì Beh è un mazzo Che cambia Che passi Parecchi Stendestroi Però non è partito Male per niente C'è già Del pull a 4 Ma veramente È una paralisi La paralisi secca Porca E dagli però Matteo Quando ti senti fortunato No Poco E allora Gli diamo dei giubili Via Però Vabbè tanto Anche se esce cane Si sposta al centro Va bene Sì esatto Mamma mia E questo C'è il gas Quello C'è il gas Quello vero Madonna Te devo di Male male Vabbè Potrei andare meglio Eh Potrei andare Poi andare peggio Via Occhio Scarti Death Fatto che Mo' Questo Lo sai che Te fate Fa Deadpool Venom Mette In botto Te punti Ah Così Eh Tanto è un cubo Sì Dici Un fa bene Un fa male Via Esatto Se va male Ci attaccheremo al caso Qualche porta pure Nami Vabbè molto probabile che va male Ok Vabbè Tanto tanto O facevi così O giocavi per tutto Niente Perché c'è troppi punti Se snappava Fuggivo prima Se snappava Sì Qua era da giocassi La cucina A provare a rollare forte Però vabbè Tanto era un cubo solo Era Cioè Solo la perdita del tempo Del cubo Io mi faccio l'ultima Poi Scappannanna Buongiorno Buongiorno Peppe Ciao Lorex Buongiorno Stefano X Ciao ragazzi Allora Effetto Continuo in questo campo Sono raddoppiate Ok Ma Un sacco di gente Con sto Black Knight Come mai Mio dio Quella di Siff E' solida Scalata magneto Ok Ce ne scarta due Corbus Te devo dire la verità Male 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 Io qua snappo E ha un po' che roba già Perché lui c'ha questa qui Che in realtà Non è male questa Ma questa La lama Debono Come fa Lui praticamente Adesso lui ha fatto Quella di Siff Ha scartato Detta no Praticamente Black Knight Che gli fa Gli fa Una spada Che è 412 Indistruttibile Con la statistica Di quella che ha scartato Quindi mo lui c'ha in mano Una spada Che è una 412 Indistruttibile Giganto è carello Però Sì A meno che non c'ha Cazzo ne so Shang Sain C Comunque ci lo deve mettere Io gli sta truccato L'unica cosa Eh Beh lui che si è truccato Che si è a sinistra Non è proprio bello Per lui Eh mette qua le cose Con effetto continu Ah no Non può Mi fa spada a destra Ecco Ok Ok E su punti Può riscare Su punti Ci voleva però Quella Quella dottoressa Lì Quella Quella che c'è La mandella verde 25% Yes Oh è la O O niente Eh ci vuole La Pensate Tenermi questo Così il torno dopo Cioè se pescavo Lock Joe Capito Ah dici Per flippa Però il fatto Che se te sale La non giochi più scarri Quindi non hai fatto male A giocarlo Eh ma La è più importante Secondo me Eh voglia La roba Madonna Eh anche lui Sta bello fresco Eh Questa è la Dai Eccola che Rimortacci Sua Eccola va Eh ma non hai detto Che vinciamo Eh Allora Allora Noi abbiamo Infinauta Jubilee Black Cat Ma madonna Che ci puoi mettere Dentro detta Allora Può pure Pensare Sul fatto Può pure Pensare Sul fatto Che ne so Che tu La giochi Magari Ah ok Sei ritirato La puoi giocare Pure magari Quando su queste situazioni Dato che tu hai scattato Magneto No Lui c'ha la spada A 12 Che se la sposti Da destra Vinci tu Quindi tante volte Può pure Giocare Dici Me la gioco a destra Anche se perdo Appunti Perché magari Magneto Gli sposta Una carta Dall'altra parte Eh ma È difficile È difficile Beh se tu la giochi A destra C'è la sicurezza Comunque A meno che non va Magneto a sinistra Quello certo È logico Va bene Io ti saluto Ciò Troppo Va bene Ci c'è Va bene Va bene